Buon primo maggio a tutti, questa è una giornata importante, è una giornata dove si festeggia il lavoro, i lavoratori e quindi questa è una giornata in cui io mi sento naturalmente di richiamare il valore del lavoro pubblico al servizio dei cittadini e delle imprese. Noi, la pubblica amministrazione, siamo una grande organizzazione, una grande organizzazione che è fondamentale per il funzionamento della macchina statale e quindi abbiamo una grande responsabilità verso il Paese, abbiamo una grande responsabilità verso i nostri concittadini. Questo quindi significa avere la responsabilità di lavorare, di saper fare sempre meglio il nostro lavoro. È una responsabilità che io sento per me stesso e che sono sicuro voi condividete. Quindi in quest'ottica la formazione e quindi la possibilità di accrescere le nostre competenze, il nostro saper fare, le nostre capacità è fondamentale. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato la nuova versione del nostro portale Syllabus, che è il portale con il quale possiamo dotarci di tutti gli strumenti per il processo di formazione. Vi chiedo, vi esorto a iscrivervi a Syllabus, quindi rivolgetevi alle amministrazioni di vostra appartenenza per potervi iscrivere a Syllabus, per poter seguire tutti i corsi di formazione che servono per la vostra crescita, per la crescita della nostra organizzazione e quindi per essere certi che siamo capaci di rendere ai nostri cittadini e alle nostre imprese servizi sempre più efficienti e sempre più vicini alle loro aspettative. Buon lavoro a tutti!